6 nuove ambulanze a disposizione dell'ASL di Teramo e naturalmente dei cittadini della provincia. Direttore, un altro passetto in più? Sì, speriamo che le ambulanze non servano, però in realtà dà un senso di sicurezza nettamente maggiore. Sono tutte ambulanze moderne, hanno tutte le attrezzature al loro interno, ce n'è una che è destinata al trasporto neonatale. Ecco, diciamo che è un passo avanti significativo, avevamo alcune autovetture molto datate nel corso del tempo, ricordiamoci che la tecnologia in sanità avanza molto velocemente e anche le richieste dei pazienti sono sempre più pressanti e credo che sia un passo importante che abbiamo fatto oggi, che facciamo qui a Teramo e che facciamo anche con il vecchio Vescovo. Direttore, da circa un mese rientrato nella sua postazione di manager dell'ASL, ci sono novità in positivo o in negativo che ha riscontrato in questi primi giorni? Le vicende sono sempre le stesse, le nostre difficoltà sono quelle legate al personale, al fatto che in questo anno 2017, per esempio, andando in pensione 180 persone, ci rendiamo conto che il numero è 180 persone, riuscire a sostituire 180 persone nella pubblica amministrazione italiana è difficilissimo. Le difficoltà sono essenzialmente queste, cioè quelle di riuscire a mantenere i servizi che sono sempre tutti aperti, uguali a dieci anni fa come termini di offerta, con sempre meno persone. Questa è la complessità delle procedure, purtroppo è la questione che ci angoscia più di tutte. Dove riusciamo? Riusciamo anche a fare investimenti e innovazioni in sanità, adesso stiamo innovando molto sul tema delle attrezzature sanitarie, anche le ambulanze sono un segno di questo, poi ci rimarrà il grande tema che è quello di investire su un ospedale nuovo. E lì dovremo ovviamente aspettare ancora tantissimo? Dovremmo cominciare a decidere in via assolutamente definitiva perché poi anche lì sanno le procedure, però l'ospedale, la strutturazione ospedaliera come quella attuale non è che potrà durare in eterno. Gli ospedali sono complessi da gestire come strutture fisiche, parlo della struttura edilizia, hanno necessità di investimenti, sono tanti anni che non si fanno investimenti su strutture. Ovunque nella provincia di Terrona e in tutto il centro-sud d'Italia. Quindi ovviamente oggi le strutture presentano il conto, presentano il conto dell'invecchiamento. L'invecchiamento purtroppo è di tutti, anche delle strutture. E oggi è giunto il momento che non possiamo più rinviare una decisione sulle strutture ospedaliere. Grazie. Grazie.